Salute professore! E beh, a noi altri napoletani toglieteci questo poco di sfogo fuori al balcone. Io per esempio, professore, a tutto rinunzierei, tranne a questa tazzina di caffè presa tranquillamente fuori al balcone dopo quella mezz'oretta di sonno che uno si ha fatto dopo il franzo, sapete? Quel poco di stendimento... Scusate! E me la devo preparare io stesso con le mie mani, sono gelosissimo! Eccolo! Mia moglie, no, 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 mia moglie non collabora, sapete? È molto più giovane di me e la nuova generazione ha perduto queste abitudini che secondo me poi sotto un certo punto di vista sono la poesia della vita. Oltre a farvi occupare il tempo, vi danno pure una certa serenità di spirito. Bravo, bravo!